Buongiorno a tutti! e da tempo Sì, Giovanni è bravissimo Ma so lì, perché c'è il suo nuovo Va bene, ti ringraziamo affettosamente ti vogliamo rivedere visto che da tempo tu sei dedicato alla famiglia però vediamo che ho portato il teatro e ora ho parlato con la guarniera di Gustavo Scherer quindi ti vogliamo rivedere il teatro Grazie